Fra due minuti inizierà lo spettacolo sul grande piano Aspettiamo ancora un po' di pubblico, quindi fate una telefonata a un amico Avete tutto il tempo e invitateli qui Così noi con tante persone sorridenti siamo più felici di fare lo spettacolo Vi aspettiamo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti